La perturbazione artica che ha colpito il Molise negli ultimi giorni pare aver allentato la sua morsa. Anche questa mattina il capoluogo di regione si è svegliato con piccoli fiocchi di neve, ma le temperature in aumento non destano preoccupazione e il peggio sembra essere passato. Questo almeno nella zona centrale. Nei piccoli borghi e paesini di montagna restano ancora tanti disagi provocati dal maltempo, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. In base a questo, infatti, tanti comuni che hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado si tratta di Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sagno, Bonefro, Campobasso, Capracotta, Casa Calenda, Cerce Maggiore, Cerce Piccola, Frosolone, Montorioni Frentani, Morroni, Oratino, Petrella Tifernina, Poggio Sannita, Ripa Bottoni, Ripa di Mosani, San Giuliano del Sagno, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Termoli e Vasso Girardi. Questo nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio. Le principali strade coperte di fanghiglia nella zona centrale del Molise, invece, fango e acqua sulla costa, dove una pioggia alluvionale ha spazzato argini e alberi, sommergendo campi di fango e rendendo insidiosa la viabilità fino anche sulle arterie come la Bifernina, il bivio di Guglionisi. Paura anche a Riovivo, il quartiere sud di Termoli, posto sotto il livello del mare. La protezione civile, attraverso la misericordia cittadina, subito in allerta. La zona è stata monitorata da un'idrovora da 4.000 litri di tiraggio, pronta per essere usata. Senza acqua nella giornata di ieri, i comuni di Guglionesi, San Giacomo, Palata, Montecilfone, Petacciato e Montenero di Bisaccia. A Castel Mauro, registrata una delle situazioni più critiche. Qui la neve ha creato un accumulo di 40 centimetri e la popolazione è rimasta senza acqua e senza energia elettrica. A preoccupare in modo particolare la popolazione e le amministrazioni comunali è la diga. Per ora l'invaso del Liscione risulta ancora sotto livello di guardia, anche se lo sciogliersi della neve a monte dell'invaso potrebbe favorire l'inalzamento del suo livello massimo. L'emergenza maltempo di questi giorni ha ulteriormente evidenziato la necessità che i nostri vigili del fuoco siano dotati di una cisterna per il trasporto di acqua potabile, ha dichiarato il consigliere Salvatore Ciocca, che ha spiegato l'indispensabilità di tali cisterne, che trasportano solo acqua potabile, quindi per l'uso alimentare, non è circoscritta solo agli eventi meteorologici attuali. Per questo è stata inviata una precisa richiesta alle prefetture di Campobasso e di Isernia, presidi territoriali di governo, ritenendo che tale necessità debba essere evidenziata e avanzata nelle sedi del Ministero dell'Interno, al fine di rendere maggiormente incisivo l'inestimabile lavoro svolto sia dalla protezione civile, sia dalle associazioni di volontariato, che, avendo tali mezzi a disposizione, riescono a tamponare le richieste, che soprattutto in situazioni di emergenza come quella attuale, sono numerose e pertanto difficili da poter gestire tutte insieme. Non basta il maltempo a destare preoccupazione anche lo sciami sismico, che da ben cinque mesi ha travolto il centro Italia. Le tre scosse di magnitudo superiore a cinque, registrate due giorni fa nell'Aquilano ed avvertite anche in Molise, hanno allertato nuovamente genitori, soprattutto nel capoluogo Pentro. L'ultima scossa con epicentro Baranello, invece, è stata registrata ieri sera, intorno alle 20.02, con magnitudo 3.0. Grazie.